è incredibile come tutto cambi a seconda delle prospettive dall'alto poi è tutto più bello ragazzi intanto che aspettiamo il capo vi racconto qualcosa di questa fantastica auto la nuova audi a8 lo stile di nuova audi a8 colpisce da ogni prospettiva per la sua sofisticata eleganza una berlina di classe che acquista ancora più carattere grazie al design frontale il single frame ampliato è caratterizzato da un profilo accentuato e impreziosito da inediti inserti tridimensionali cromati che si ampliano dal basso verso l'alto il nuovo look delle prese d'aria sviluppate verticalmente definisce lo sguardo magnetico di questa vettura il design posteriore viene invece esaltato dalla fascia luminosa estesa verso il paraurti e dai raffinati gruppi ottici oled dettagli di stile unico ed inconfondibile sono offerti anche dal nuovo design per l'inserto al diffusore integrato nel paraurti e contraddistinto da elementi orizzontali gli esterni possono essere ulteriormente impreziositi dal pacchetto chrome che aggiunge dettagli cromati al paraurti anteriore e posteriore dal pacchetto s line exterior che offre una configurazione con elementi esterni sportivi ed infine dal pacchetto look nero che caratterizza ovviamente la vettura con dettagli in nero siamo in arrivo all'aeroporto di san marino con massimiliano adesso speriamo solo che il mio autista non sia come al solito in ritardo ci aspetto un'anteprima strepitosa cosa batti è la prima volta nella tua vita che arrivi puntuale forse mi confonde con qualcun altro si si è molto probabile prego signor rossi tutto bene il volo grazie molto bene si si turbolente no però sono un po' preoccupato quello che mi aspetta ora prego la colgo a bordo sei super professionale guarda mi trovo bene in queste vesti pronti bella lussuosa e soprattutto silenziosa queste le caratteristiche principali della nuova miraglia di casa audi l'eleganza e la raffinatezza sono la cifra stilistica che contraddistingue anche gli interni di audio 8 le linee pulite sottolineano la spazzosità dell'ambiente a disposizione dei passeggeri le numerosissime possibilità di personalizzazione riguardano differenti tipologie di sedili diversi funzioni comfort rivestimenti di inserti di alta qualità da sottolineare il sistema di infotainment mmi touch response caratterizzato da due display da 10.1 e 8.6 pollici che si inseriscono in modo perfetto e quasi invisibile all'interno della console centrale grazie alla tecnologia black panel per un tocco più sportivo all'eleganza possiamo optare ad esempio per inserti in carbonio pedaliera in acciaio elementi inferiori in alluminio spazzolato o volante sportivo con logo s Manuel si signore avverto un certo languorino mi devo fermare a prendere qualcosa no la mia non è proprio fame è più voglia di qualcosa di buono mi ero permesso di dispensarci signore foccolatino grazie Manuel l'innovazione tecnologica prende forma grazie al design di illuminazione di nuova generazione di cui sono protagonisti i nuovi proiettori a led digital matrix che prevedono la scomposizione del fascio luminoso in pixel infinitesimali così che la strada venga illuminata con straordinaria efficacia mamma mia Manuel a proposito di turbolenze non mi sono trattenuto signore ci credo con la trazione 4 i motori con potenze da 286 a 462 cavalli quest'auto garantisce performance davvero sportiva accompagnate a sicurezza stabilità e comfort di marcia la nuova gamma 8 è dotata di serie dei nuovi equipaggiamenti tecnologici che proiettano l'esperienza di guida nel domani come ad esempio il lane change warning con audi presence rear all'interno del pacchetto audi innovation assist troviamo i proiettori a led i pacchetti assistenza siti e tour e il sistema di riconoscimento stradale basato su telecamere però completa quest'auto esatto e non è finita qui un occhio audi lo ha come sempre riservato anche all'ambiente infatti grazie ai motori con tecnologia plugin hybrid che vedono accoppiati il propulsore endotermico 3000 v6 tfsi e il motore elettrico in grado di erogare una potenza complessiva di ben 462 cavalli insieme ad una batteria a litio da circa 18 kilowatt si riesce ad garantire un'autonomia in modalità 100 per cento elettrica di oltre 60 chilometri dando così la possibilità di percorrere la maggior parte dei tratti urbani ad emissioni zero prego signor rossi oggi bevi abbastanza bene vero me la cavo eh guarda guarda dove ti ho portato che servizio sei mai stato posto strepitoso ti ho portato nella patria del cinema d'autore e adesso guarda che spettacolo che ti faccio vedere sono proprio curioso non faccio un film per dibattere tesi o sostenere teorie faccio un film alla stessa maniera in cui vivo un sogno così federico fellini parlava delle sue opere quale posto migliore dunque caro manuel per goderci questo esclusivo spettacolo se non il suggestivo cinema fulgor tornato ad alzare sipario dopo cinque anni di restauro siamo pronti che abbia inizio lo spettacolo comunque che giornata oggi eh sei sempre il solito fortunato e ringrazia il piccolo ma super efficiente aeroporto di san marino per le meravigliose emozioni che ti ha fatto vivere oggi devo ringraziare anche te hai fatto un servizio impeccabile e con questo siamo pari con driving ci vediamo la prossima settimana grazie alla concessionaria regini a tutti voi per essere stati con noi ciao ciao grazie a tutti